Musica Weee, bella a tutti ragazzi e benvenuti A questo nuovo video Unboxing Io sono Xyuder E io la Fami E intanto ragazzi, buona domenica a tutti Quale modo migliore amo iniziare una domenica se non aprendo Questo unboxing Non è che apri l'unboxing Apro questo pacchettone L'unboxing L'unboxing è spacchettare Unboxing è spacchettare, quindi apriamo ragazzi I ragazzi Facciamo lo spacchettamento Sì, devi parlare in questo coso che è il microfono Ma amiciando ci sentono No, non ci sentono se poi parli a bassa voce Non urlare che notte Va bene, non è notte I ragazzi di stampa 3D Sud Vi avevo già fatto vedere ragazzi Un unboxing Trovate il video Lì Che sta per apparire un po' Non devi guardare un effetto che farò io Nel video Sta per apparire con la forbice La teniamo in posti con calma Ci hanno mandato Apri mentre io parlo Ci hanno mandato un'altra scatola ragazzi E han detto Altre novità Altre novità Ragazzi vi ricordo che questi ragazzi Stampano in 3D Come dice ovviamente il nome Un sacco di roba In fornavole torte In 4D In 4D non si può ancora stampare Come Non so cosa dire E cioè scusami Ma guardi Lo dice la parola 3D Stampano delle cose inerenti Fornite Che sono bellissime Tutti vi ricordate La guanana La guanana La mia Il lamettino Il lamettino La banana Ragazzi Mettiamo qua Li mettiamo E adesso Vediamo che cosa c'è dentro Han detto Ti vogliamo stupire Lo colto per terra Cosa vuol dire L'ho colto per terra Lo metto per terra Perché lo metti per terra Mettilo dove ti pare Poggialo qua Mettilo per terra Allora comincia Non ti si vede più Non ti si vede Ma non devi guardare Devi darmi le cose Dammi una cosa What is this? Guardate il logo ragazzi Aspetta eh Stampa3D Vi lascio comunque Il link in descrizione Per andare sul loro sito Ne apriamo uno per uno Dai questo lo apri Cos'è? Ehi piano 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 Ehi 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 What is this? What is this? No No Fammela vedere No 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 Non ho fatto No C'è scritto Xuderone C'è scritto ragazzi Guarda C'è scritto Xuderone Lo E no È mia nonna Oddio L'ora lo furranno Anche i ragazzi Guardate Lo No Ma che cavolo è Il mio Funko Pops Aspetta che lo voglio aprire Let me open Lo rompi però eh Aprilo tu No raga vabbè Questo è Che cavolo di figata è Aspetta Il Funko Non c'è un Ragazzi di stampa3D Sud Perché non mi avete mandato un foglietto Che lo mettevamo qua Maledizione Stampa3D Sud Lo mettiamo qua Che si vede Non si vede Mi stai tagliando i capelli virtualmente Voglio vedere che cavolo è Voglio vederlo bene Ciao in mano il Victory Royale Raga Non vinco spesso io Non Che carini che sono stati Questo è bellissimo Con le cuffie Oh mio Dio Con le cuffie Aspetta Riesci a tirarlo fuori Senza distruggerlo Eh hanno fatto su un buon Casotto Eh perché avevamo paura Che si rompesse Aspetta Poi posso Un momento Un momento scusate Per favore Per favore Non lo tirare Se no non viene Certo che viene Eh no Minchia tanto Aspetta Lo si prende da qua Un momento E' arrivato E' arrivato E' arrivato E' arrivato E' arrivato LOL Ma questo vi faremo una foto Lo metteremo su Instagram Se tu fai così Dimmi Trattiralo un po' su Perché non vedono bene Poi lo metteremo su Instagram Con la foto In primo piano Che figata Con le cuffie Questo è meraviglioso Tienilo con cura Sì lo metto lì Lo metto Adesso lo appoggiamo qua Grazie Cosa ci abbiamo ancora voi C'è altra roba C'è altra roba Raga Possiamo fare 10 minuti Per un Funko Pops Blips Grazie ragazzi Che figata Uno per uno Uno per uno Vai apri Prego Questa roba Questa roba C'è dentro un liquido Come c'è dentro un liquido Non è possibile Un momento Ma come pesa troppo Ragazzi Ma come pesa troppo Mettiamo intanto la cartaccia Gliela Gliela mettiamo qua La cartaccia Il funco lo mettiamo qua Va come sta benissimo Prott Cos'è Pesa troppo Ma come pesa troppo Ma se sei seduto Cosa stai dicendo Poi hai le cose davanti Non ti si vede neanche in faccia C'è dentro Lo metto Guarda No c'è dentro Oh Penso di avere capito Che cos'è I think E' la pozione Non ci so No ma è fighissimo Questo qua è lo shieldone Amo Come cos'è Perché uno se lo scaffonda No raga LOL Stompa Abbiamo lo shieldone Cos'è uguale Lo shieldone lo voglio Lo voglio qua No vabbè che figata Abbiamo anche lo shieldone raga adesso E' uguale Porcagnofa E' uguale Tocca a me Tocca a me Tocca Tocca a me Si sono superati sto giro raga Questo si muove Si sono superati ragazzi Andate a dare un'occhiata Al sito di questi ragazzi Perché sono fantastici Andate sono bravissimi Veramente bravi Delle cose bellissime Ma passano in live Ogni tanto salutare Stampa 3D Sud E ringrazio davvero tutto lo staff Perché Spettacolo ragazzi Grazie di cuore Avanti ancora Calmi calmi C'è qualcos'altro Una scatoletta magica Che caspita Non capisco cos'è Ah io lo so cos'è Io lo so cos'è Il baule Il baule Il baule No non è il baule Non è possibile che sia un baule Caccia un baule davvero Aspetta Il baule è quello che Piano 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 Che lo apri E ci sono dentro le storie No vabbè E la scatola di munizioni E la scatola di munizioni No guardate E un bauletto che lo sto godendo No raga è uguale Raga e c'è dentro E c'è dentro Si apre Si apre Siete pazzi ragazzi Siete pazzi Siete pazzi Attenzione No vabbè Dai No vabbè Raga Guarda Guarda No vabbè Dai Siete pazzi Ma cosa sono belli Raga Chi non vorrebbe Una scatola di munizioni A tema fortnite Con tanto di munizioni Dai vabbè Ma sono bellissimi Che storie Sono meravigliosi Fatti che belli Meravigliosi Sono uguali Sono uguali I proiettili che escono Dalla cassa di munizioni Grandi Che storia LOL La chiudiamo Va che roba Tac E da che si chiude Ah si si chiude A passaggio di incastramento Si chiude al modo di Aspetta Al modo Dopo la facciamo scorrere con calma Adesso la appoggiamo Scatola di munizioni Fortnite Tocca a te Tocca a te Tieni No raga Questo unboxing è meraviglioso E' bellissimo Anche il precedente era meraviglioso Guarda che cos'è questo Ha già capito tutto Sa tutto Sì ma io lo so fortnite Come tu sai fortnite Quello che lo appoggia e salti per il decollo No raga No raga No raga E quello sarà Eh si Dai se siete fan di fortnite non potete non avere queste cose raga sono troppo belle Poi siete lì nella vostra postazione e vi rallegrano la giornata proprio guardarle A me piace tantissimo guardarle assolutamente Ello perché ve li mettete là in fianco al vostro Piano non sto a strapazzarlo In fianco al vostro computerino Abbiamo la piattaforma di lancio Abbiamo la jump raga Abbiamo la jump raga Non ci credo Non ci credo Dai cos'è bella Cosa cavolo Perché devi sporcarmi tutto col polistirolo Ah se jump Prott Vediamola Bella Guarda qua che storia Guarda che storia Prott La storia della vacca mi tocca Abbiamo anche la jump La posso usare come poggia mouse Oh Finalmente ho dato poggia mouse Allora Cos'è bella la jump La mettiamo La mettiamo qua Qua C'è quello grande C'è una cosa grande dentro raga Sì L'altra cosa non la guardo Allora quella piccola più tu quella grande la apro io Porca C'è una dedica Sì C'è una dedica C'è una dedica Aspetta 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 Un ringraziamento Al nostro Xuderone Con Il fucile tattico È un È un fucile Un omaggio Signori Stampa 3D Sud Fa I Fucili Stampa 3D Andate a vederlo ragazzi Lo voglio vedere Lo voglio vedere Lo voglio vedere C'è un pezzettino che si muove Dai sono sicuro che sia fatto apposta Aspetta What is this What is this Aspetta che c'è un fucile qua dentro raga Non tagliamo la stampa e non tagliamo neanche la dedica perché La dedica viene via comunque La dedica viene via e non si rovina È certo che è attaccata Come poter È certo ma quella la teniamo Dopo la teniamo Grazie Aspetta Porca di quell'amore Si è rotto qua No è impossibile No lo incolliamo Eh questo è il trasporto raga Non ci Lo incolliamo Non è un problema Non è un problema Si è staccato Ah vabbè Era attaccato easy Nel senso Guarda Lo rimettiamo proprio Phlox Pront Dai raga Dai raga Look at this Look at this Che figata Che figata Riattaccheremo il pezzo che ci ha scollato Non è un problema Grazie di cuore È l'ultimo ragazzi L'ultimo pezzo della Porca miseria L'ultimo No vabbè dai Non possono averla fatta loro questa Non ci credo No vabbè raga No vabbè raga Non ci sto credendo Ma che Sto morendo Dai ci vuole una foto Ciao Fammi una foto Com'è che ti faccio Te la faccio dopo Stiamo facendo Salute No non te la togliere Non te la togliere Ragazzi Sentite Le cose Sono meravigliose Io ringrazio davvero Tutti Tutti i ragazzi Ragazzi se vi è piaciuto Questo mozzi Vi deve essere piaciuto Per forza spolliciate Prima che la pami Mi soffoca dentro Ragazzi Grazie a tutti Un bel like Tutti da stampa 3 di sud Noi ci vediamo Al prossimo unboxing Unboxing Ciao 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 Grazie a tutti